Ciao a tutti e come sentite la situazione da lunedì non è cambiata, continuo ad avere la voce che non è al massimo, continuo ad avere il covid, quindi perdonatevi. Detto questo vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo diamoci dentro col video. Per il caso di oggi ci addentreremo in una cultura dove i legami familiari e l'onore della famiglia sono elementi fondamentali e spesso inviolabili. Questi valori profondamente radicati nelle tradizioni e nelle aspettative sociali possono esercitare una pressione schiacciante sugli individui, in particolare sulle donne. In questo contesto una giovane di 20 anni ha trovato il coraggio di sfidare le aspettative e le imposizioni della sua famiglia. Quando si è sentita in pericolo ha chiesto aiuto alle autorità, ma le sue ripetute suppliche sono state ignorate dalle istituzioni, che avrebbero dovuto proteggerla. Le conseguenze tragiche di questa negligenza hanno colpito non solo la protagonista di questa triste storia, ma anche coloro che le volevano bene. Questa vicenda non è solo un racconto di violenza e ingiustizia, ma anche un'occasione per riflettere sulle difficoltà che le donne possono affrontare quando cercano di sfuggire a situazioni oppressive, anche in contesti che dovrebbero garantire loro sicurezza e supporto. Banaz Mahmud nasce il 16 dicembre 1985 in Iraq, nell'Asia occidentale. È una donna musulmana di origine kurda e irachena. Suo padre si chiama Mahmud Babakar e sua madre Beya. I suoi genitori sono musulmani devoti e crescono Banaz e i suoi cinque fratelli seguendo un'educazione severa, basata su rigide credenze e regole religiose ben precise. Sia Banaz che le sue quattro sorelle e il fratello non hanno un buon rapporto con i genitori e vengono spesso picchiati dal padre se fanno qualcosa che potrebbe portare vergogna alla famiglia. La famiglia si trasferisce a Londra nel 1995 con lo status di rifugiati, quando Banaz aveva dieci anni. Anche altri parenti si trasferiscono insieme a loro, stabilendosi nel sud di Londra e il padre di Banaz inizia a lavorare per suo fratello minore, Ari Aga Mahmud. Quest'ultimo viene considerato il capofamiglia perché è il più ricco e quindi viene visto come colui che detiene più potere. Dato che è il capofamiglia, decide i ruoli di tutti gli altri all'interno della famiglia. È colui che prende le decisioni e, come ho già detto, la comunità kurda in cui sono cresciuti Banaz e i suoi fratelli è molto rigorosa. Soprattutto per quanto riguarda le donne ci sono delle regole molto severe e se qualcuno non le rispetta è una vergogna per la famiglia. Alle donne non è permesso mettersi lo smalto alle unghie e non possono né indossare nessun tipo di profumo né tingersi i capelli. Il loro ruolo in questa comunità è quello di sposarsi con un uomo scelto e ritenuto appropriato dalla famiglia, partorire dei figli, crescerli e fare la casalinga. Quando una donna si sposa in questa comunità diventa una proprietà del marito, ci si aspetta che lo serva e che gli obbedisca. Se qualcuna avesse portato vergogna o disonore alla comunità ci sarebbero state delle conseguenze e l'intera famiglia sarebbe stata disapprovata. La situazione non è diversa per Banaz e i suoi fratelli. Banaz viene descritta come una bambina sempre felice e vivace, intelligente e amante della scuola. Ho delle discussioni, cerca sempre di non turbare le persone a lei care e, se è possibile, cerca di evitare il confronto. È molto legata alle sue sorelle e al suo fratello, inclusa sua sorella maggiore, Bekal. Bekal, quando compie 16 anni, decide di lasciare la casa di famiglia. È stanca delle percoste del padre e delle rigide regole che le vengono imposte. Questa decisione porta grande vergogna alla famiglia. I suoi genitori sono sconvolti dalla sua scelta, tanto che suo padre ordina a uno dei loro figli, Tim, di ucciderla per lavare via il disonore che ha portato alla famiglia. Babacar gli offre anche un compenso. Un giorno Tim riesce a rintracciare la sorella e la colpisce alla testa. Bekal cade e lui le mette il braccio intorno al collo, sollevandola quasi da terra. La ragazza, in preda al panico, si divincola e riesce a liberarsi mordendogli il braccio e dandogli un calcio sul ginocchio per fargli lasciare la presa. Bekal urla. Cosa stai facendo? Stai cercando davvero di uccidermi? Tim, a questo punto, scoppia a piangere, dicendo che lui è il più grande, dopo il padre, e deve farlo per porre fine alla vergogna che lei ha causato alla sua famiglia. Tim però, grazie a Dio, non riesce a ucciderla e fortunatamente la ragazza sopravvive all'aggressione, anche se ora sa che la sua famiglia sta cercando di eliminarla. A questo punto a Bekal resta una sola cosa da fare, nascondersi. Nonostante la ragazza sappia benissimo che questa aggressione è stata organizzata da suo padre, decide di non denunciarlo alla polizia, si limita a non farsi trovare dalla sua famiglia. Nel 2003, quando Banatz ha 13 anni, i suoi genitori gli organizzano un matrimonio con un uomo scelto da loro di ben 10 anni più grande. Banatz non lo conosce bene e lo ha incontrato soltanto un paio di volte. La ragazza non desidera questo matrimonio, non vuole sposarsi con un uomo che ha 10 anni in più di lei e che conosciamo alla pena, ma, come vi ho detto all'inizio del video, la ragazza odia il confronto e detesta litigare con la sua famiglia, quindi si limita ad assecondarli. Inoltre, c'è da dire che questa è la normalità per la cultura kurda, sono i genitori a scegliere i mariti appropriati per le loro figlie e quindi Banatz non ha scelta. Banatz quindi si sposa con quest'uomo, il cui nome è ignoto perché non è di dominio pubblico. La ragazza non ha niente in comune con il marito e il loro non è di certo un matrimonio felice. Quest'uomo è un alfabeta ed è anche un membro della comunità kurda, ha quindi le stesse opinioni sulle donne che hanno i genitori di Banatz e tutti gli altri che fanno parte di questa comunità. Appena i due si sposano, Banatz diventa agli occhi del marito una sua proprietà e deve fare tutto quello che lui le ordina. Controlla completamente tutta la sua vita, vuole sapere cosa fa e con chi si vede, chi sono i suoi amici. È incredibilmente violento nei suoi confronti, la aggredisce intimamente e la picchia costantemente minacciando di ucciderla se avesse raccontato qualcosa a qualcuno. Banatz odia questo matrimonio e soprattutto odia quest'uomo. In un'occasione le sue sorelle scorgono sul suo corpo una quantità impressionante di lividi. Sanno che è stato suo marito a causarli, così la famiglia si rivolge a lui per affrontarlo e chiedergli spiegazioni. Lui ammette di picchiare Banatz, afferma che lo fa perché è irrispettosa. Ammette anche di obbligarla ad avere rapporti con lui, ma solo quando lei si rifiuta. I parenti della ragazza, piuttosto che chiamare la polizia e di valutare la possibilità di un divorzio, le ordinano di tornare da suo marito e di supportarlo. Ritengono infatti che l'atteggiamento dell'uomo sia accettabile. Dato che ora Banatz gli appartiene, lui può fare quello che vuole. Le dicono che deve impegnarsi di più per essere una moglie migliore. La ragazza obbedisce ai genitori, torna da suo marito e cerca di far funzionare la relazione, ma non ci riesce proprio. Non può accettare di essere assalita e picchiata quotidianamente, non vuole una vita del genere. È così stanca di tutti gli abiti subiti che nel 2005, dopo due anni di matrimonio, decide di andare contro il volere della sua famiglia e di divorziare da quell'uomo così violento. Ne ha abbastanza. Tuttavia, nella sua cultura, lasciare il marito è una delle cose peggiori che una donna possa fare. Banatz non vuole quella vita, sogna solo di essere sposata con qualcuno che ama, di avere dei figli con un uomo che la rispetti e la tratti bene. Non riesce proprio a immaginare di mettere su famiglia con quell'uomo, teme che anche i bambini potrebbero diventare sue vittime. Nel luglio 2005, Banatz torna a vivere nella casa di famiglia e ben presto incontra un uomo con cui vuole trascorrere il resto della sua vita. Si chiama Ramat Sulemani. Prima di innamorarsi erano buoni amici, quindi Banatz lo conosce bene. I due iniziano una relazione. Si mandano messaggi continuamente, spesso parlano della loro futura vita insieme, sognano di potersi sposare un giorno e di mettere al mondo dei figli. Per Banatz questo è un sogno che si avvera, vuole solo essere felice e amata ed è esattamente come la fa sentire Ramat. Gli scrive messaggi come Sei la mia ispirazione per alzarmi ogni giorno. Ramat, ti amo, sei la mia vita e sei la ragione per cui vivo. Per Banatz Ramat è perfetto, ma la sua famiglia disapprova fin da subito questa religione, poiché Ramat non segue la rigida cultura kurda. I genitori di Banatz non vogliono che lei lo sposi, preferiscono che la figlia torni dal suo violento marito, piuttosto che stare con Ramat, una persona gentile e dolce, solo perché non appartiene alla loro stessa religione. La famiglia di Banatz è furiosa per il fatto che il loro figlia sia andata contro di loro chiedendo il divorzio e che ora abbia trovato l'amore con un altro uomo. Questo atteggiamento porta grande vergogna e disonore all'intera famiglia. Per questo motivo Banatz ha molta paura. Teme che la sua relazione con Ramat possa spingere la sua famiglia a far del male sia a lui che a lei. Così decide di continuare la loro relazione di nascosto dai suoi genitori. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la loro relazione segreta, la ragazza si sente osservata e controllata dalla sua famiglia. Ha la sensazione che ci siano delle spie all'interno della comunità che la seguono costantemente e osservano ogni sua mossa. Di conseguenza la coppia si incontra raramente in pubblico per paura di essere visti. Ma trascorso un po' di tempo Banatz non riesce più a sopportare questa situazione. Non si sente al sicuro, perciò decide di recarsi alla stazione di polizia di Londra per denunciare lo stalking che sta subendo. Racconta la polizia di essere molto spaventata e preoccupata per la sua sicurezza e quella di Ramat, il suo fidanzato. E dice che se dovesse accadere qualcosa a uno di loro due, per esempio se scomparissero, se venissero uccisi, i responsabili sarebbero sicuramente dei membri della sua famiglia. Nonostante la denuncia di Banatz, la polizia non fa nulla. Gli agenti annotano tutte le informazioni fornite da Banatz, ma non prendono provvedimenti per aiutarla o proteggerla. Non interrogano i membri della famiglia, né, tanto meno, qualcuno della comunità kurda. Due mesi dopo, Banatz viene vista da una delle spie della famiglia mentre bacia il suo fidanzato Ramat fuori dalla stazione ferroviaria. La spia corre subito a riferire alla famiglia di Banatz ciò che ha appena visto. L'intera famiglia si infuria perché fino a quel momento la ragazza era riuscita a tenere segreta la sua relazione con Ramat e loro erano convinti che non si frequentassero e non si vedessero più. Il padre di Banatz, Babakar Mahmood, e suo zio, Ari Mahmood, decidono di tenere un incontro con altri membri della famiglia e della comunità kurda. Discutono quale sarà il destino di Banatz e come punirla per aver portato vergogna alla famiglia. Quello stesso giorno, la ragazza sente per caso una telefonata tra sua madre e suo zio Ari. Durante questa chiamata, Ari dice a sua madre che hanno preso la decisione di uccidere sia Banatz che il suo fidanzato Ramat, dato che stanno insieme. Terrorizzata, Banatz decide di tornare alla stazione di polizia per fare un'altra dichiarazione. Vuole riferire di aver sentito per caso questa chiamata in cui la sua famiglia stava progettando il suo omicidio. Scrive inoltre una lettera alle autorità, affermando di avere motivo di credere che la sua famiglia l'avrebbe uccisa. In questa lettera scritta dalla ragazza il 5 dicembre 2005 si riferisce ai membri della sua famiglia contraddistinguendoli con dei numeri e afferma che i numeri 2, 3, 4 e 6 stanno complottando per ucciderla. Tuttavia questa lettera non arriva a destinazione in tempo e nonostante Banatz sia andata di nuovo alla stazione di polizia per sporgere denuncia, la polizia, anche questa volta, non prende provvedimenti. In effetti in questo caso è proprio la ragazza a chiedere alla polizia di non prendere provvedimenti contro la sua famiglia. Non so esattamente perché abbia detto questo, forse aveva paura di ulteriori ritorsioni. Qualche settimana dopo aver scritto la lettera, il 31 dicembre 2005, suo padre le chiede di partecipare a una riunione di famiglia in modo da poter discutere del suo divorzio. Quando Banatz arriva a casa, suo padre la obbliga a bere una bottiglia di brandy, probabilmente per farlo ubriacare e renderla più debole e incapace di difendersi. Le ordina di sdraiarsi sul divano e di continuare a guardare la televisione nel salotto senza girarsi per guardare cosa stanno facendo dietro di lei. Ma Banatz si guarda alle spalle e vede suo padre con indosso delle scarpe da ginnastica e dei guanti di gomma blu. Banatz capisce immediatamente quale sia lo scopo del padre, sa che sta per ucciderla. La ragazza sa che deve andarsene, in qualche modo deve riuscire a scappare, altrimenti morirà. Quando suo padre lascia la stanza, la vede come un'opportunità. Si alza dal divano e si dirige verso l'entrata sul retro. Esce di casa e dà un pugno al vetro della finestra del vicino per chiedere aiuto, ma nessuno risponde. Allora scavalca la recinzione del giardino e inizia a correre per strada a piedi nudi. Banatz è anche ubriaca perché suo padre l'ha costretta a bere una bottiglia di brandy e lei non è abituata all'alcol. Sanguina dalle mani e dei polsi perché era stata legata da suo padre. Corre finché può, poi collassa all'entrata di un bar delle vicinanze. Viene portata in ospedale. Il personale medico affermerà di non aver mai visto qualcuno così spaventato e terrorizzato. Banatz è in preda al panico e crede che morirà quella notte stessa. Lo staff dell'ospedale contatta Ramat, il fidanzato della ragazza, che si precipita subito in ospedale per vederla. Mentre Banatz viene spostata all'interno dell'ospedale su una barella, Ramat le si avvicina e le chiede cosa fosse successo esattamente e decide di fermarla mentre spiega le dinamiche della sua fuga. Non so perché Ramat abbia deciso di intraprendere il suo racconto. Probabilmente aveva intenzione di portare quel filmato alla polizia per fornire delle prove. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Banatz torna alla stazione di polizia per raccontare esattamente cos'è successo e chiedere aiuto e protezione. Ora ha le prove che i suoi genitori stanno davvero cercando di ucciderla. Prima la sua in effetti era solo una preoccupazione, ma ora suo padre ha fatto un tentativo concreto. Tuttavia ancora una volta la polizia non interviene né cerca di proteggerla per impedire una tragedia annunciata. Uno degli agenti di polizia addirittura non le crede. Questo agente sostiene che Banatz stia mentendo, è sicuro che sia solo una donna che sia ubriacata e che ha inventato tutta la storia. Prende anche in considerazione l'idea di accusarla per danni, per aver rotto la finestra del vicino di casa. Fino a questo momento la ragazza si è recata dalla polizia per denunciare la sua famiglia in ben cinque occasioni diverse, dicendo di essere in pericolo perché i suoi familiari vogliono farle del male. Ma gli agenti non hanno mai fatto nulla per aiutarla. Non posso affermare che la polizia in questo caso abbia lavorato male perché non ha nemmeno provato a investigare. Non hanno proprio fatto nulla a parte accusare la vittima di mentire. E alla fine vorrei proprio capire cosa avrebbe guadagnato questa ragazza a dire bugie riguardanti la sua famiglia alla polizia. Cioè perché avrebbe dovuto mentire? Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Banaz rimane per un periodo di tempo con il fidanzato, Ramat. Tuttavia la sua famiglia le chiede di tornare a casa e lei incredibilmente accetta. Forse Banaz vuole fare ammenda e chiedere scusa nonostante abbiano cercato di ucciderla. La triste verità è che lei vuole bene i suoi genitori e ama la sua famiglia. Arriviamo al 23 gennaio 2006. Banaz invia uno degli ultimi messaggi al suo ragazzo. Gli scrive Stai attento Ramat, per favore, perché non penso che potrei vivere un secondo senza di te. Ti amo così tanto. Il 24 gennaio 2006 Banaz scompare. Il suo fidanzato, temendo il peggio, decide di contattare la polizia per denunciarne la scomparsa. La polizia, inizialmente, tanto per cambiare, non prende sul serio la denuncia. I suoi genitori si dipingono come una famiglia tollerante e accomodante, sostenendo che Banaz spesso rimaneva fuori durante la notte e insistendo sul fatto che non fosse una persona scomparsa. Tuttavia, Ramat non si arrende e insiste sul fatto che la polizia deve prendere dei provvedimenti. Partono quindi le indagini sulla scomparsa di Banaz. Vengono interrogate delle persone che fanno parte della comunità kurda, residenti in quelle zone, ma non riescono a scoprire nulla. Nessuno all'interno di quella comunità vuole aiutare i poliziotti fornendo informazioni. Alcune persone gli danno addirittura false indicazioni e falsi indizi per far perdere tempo agli agenti e distorgerli da ciò che è realmente accaduto. Le persone che hanno testimoniato il falso verranno poi accusate di aver ostacolato il corso della giustizia, facendo perdere tempo alla polizia durante le indagini. La polizia decide quindi di andare a parlare con la sorella maggiore di Banaz per vedere se ha sue notizie oppure se Banaz si è rifugiata da lei dato che Bekal si sta ancora nascondendo dalla sua famiglia. Quando la polizia va nella casa in cui Bekal si sta nascondendo e le dice che sua sorella è scomparsa, lei dichiara di non saperne nulla, ma è certa che la sua famiglia abbia qualcosa a che fare con la sparizione e lo dice chiaramente alla polizia. Nel marzo del 2006 Bekal riceve una telefonata da un membro della comunità kurda che la minaccia dicendo che sanno dove si nasconde e che, se avesse parlato, sarebbe stata la prossima a essere uccisa. La polizia decide prontamente di mettere sotto protezione Ramat, il fidanzato di Banaz e Bekal, spostandoli entrambi in due diversi luoghi sicuri per proteggerli da possibili ritorsioni della comunità kurda. Poco tempo dopo la scomparsa di Banaz, mentre le indagini sono ancora in corso, la polizia riceve la lettera che la ragazza aveva scritto il 5 dicembre 2005. Se ricordate, in questa lettera la ragazza affermava di aver ragione e di credere che la sua famiglia stesse cercando di ucciderla e si riferiva a vari membri della famiglia con dei numeri. Usando questa lettera, la polizia riesce a rintracciare le persone a cui corrispondono questi numeri. Tre di questi sono associati ad altrettanti cugini di Banaz, Omar Hussain, Ali Mohamed e Hama Mohamed. A questo punto la polizia ritiene che Banaz sia morta e crede che sia stata uccisa da questi cugini menzionati nella sua lettera. Tuttavia non riescono ancora a localizzare il luogo in cui si trova il suo corpo. Nonostante la scarsità di prove fisiche della morte di Banaz, decidono ugualmente di arrestare i tre uomini sospettati del suo omicidio. Il primo ad essere arrestato è Hama Mohamed, ma la polizia fatica a rintracciare gli altri due uomini. Nel frattempo le autorità continuano a cercare il corpo di Banaz in aree boschive, fiumi e laghi, mentre i suoi genitori mostrano un totale disinteresse per le indagini. Finalmente la polizia riesce a rintracciare i telefoni degli altri due cugini sospettati e il GPS mostra che hanno viaggiato ripetutamente tra Londra e Birmingham, cosa che insospettisce gli inquirenti. Inoltre i due uomini stanno usando un'auto a noleggio, il che permette di tracciare ogni luogo in cui è stata parcheggiata. La polizia decide quindi di mandare in perlustrazione un elicottero per sorvolare tutte le aree frequentate dai sospettati con quell'auto. Una delle zone in cui questo veicolo è stato parcheggiato più volte e all'esterno di una casa. Sorvolando questa casa, gli agenti notano nel giardino sul retro parecchi oggetti ammucchiati. La cosa viene considerata strana e sospetta perché si tratta di oggetti che solitamente non dovrebbero stare in giardino. Viene emesso un mandato di perquisizione e due ufficiali vengono inviati alla casa per controllare nel dettaglio cosa c'è nel giardino sul retro. Gli agenti, che si avvalgono della consulenza di un archeologo forense, trovano un freezer tra i vari oggetti. Guardando sotto notano che il terreno sotto al congelatore è smosso, come se qualcuno avesse seppellito qualcosa di recente proprio in quel luogo. Iniziano a scavare e trovano una valigia sepolta a circa due metri di profondità contenente il corpo di una giovane donna. È in posizione fetale, rannicchiata all'interno della valigia e in seguito verrà identificata come la ventenne Banaz Mahmud. Il corpo è gravemente decomposto dato che era rimasto in quella valigia dal giorno della sua scomparsa, quindi è irriconoscibile. Questo rende davvero difficile ottenere prove forensi o del DNA da un corpo in tali condizioni. La polizia è comunque certa di sapere chi siano i responsabili, quindi li arresta. Il primo, come vi ho già detto, è Mohammed Ama, uno dei tre cugini che si ritiene fossero coinvolti nell'omicidio di Banaz. Gli altri due uomini che vengono arrestati sono il padre di Banaz, Babakar Mahmud, e suo fratello, ovvero lo zio di Banaz, Ari Mahmud, sospettati di essere coloro che hanno organizzato l'omicidio. Gli altri due cugini di Banaz, Omar Hussein e Ali Mohammed, sospettati di aver eseguito fisicamente l'omicidio insieme al terzo cugino, invece risultano irreperibili. Emerge che sono fuggiti in Iraq. Nel frattempo la polizia analizza tutte le prove raccolte. Esaminando le terribili ferite sul corpo di Banaz durante l'autopsia, si riescono a ricostruire gli eventi del giorno della sua morte. Il 24 gennaio 2006, tutti e tre i cugini si erano incontrati a casa di Ama Mohammed, prima di dirigersi verso la casa in cui abitava Banaz. Allora arrivo i genitori della ragazza avevano lasciato la proprietà, consapevoli di ciò che stava per accadere. La polizia era riuscita a registrare segretamente Ama, mentre raccontava ridendo e vantandosi ciò che lui e gli altri due uomini avevano fatto a Banaz il giorno del suo omicidio. Ama afferma che lui e i due uomini avevano fatto irruzione nella casa mentre Banaz era in soggiorno. La ragazza aveva capito immediatamente che stava per essere uccisa. I tre uomini avevano esercitato su di lei violenza fisica e intima, e poi gli avevano messo una corda intorno al collo cercando di strangolarla a morte. Nelle registrazioni si sentiva l'uomo dire che c'era voluto un po' di tempo prima che la ragazza morisse, perché la sua anima non voleva lasciare il suo corpo e così i tre uomini le avevano stretto ancora di più la corda fino a farla sanguinare e le avevano calpestato il collo. Dopo circa cinque minuti la ragazza era deceduta. Avevano poi messo il corpo senza vita di Banaz nella valigia che hanno seppellito sotto al freezer nel giardino sul retro, dove è stato ritrovato. Nel frattempo, durante l'interrogatorio, lo zio di Banaz, Ari Mahmood, e suo padre, Babakar Mahmood, negano inizialmente tutte le accuse, dichiarando di non aver organizzato nessun omicidio. Tuttavia, poco dopo, crollano e ammettono che la ragazza aveva portato vergogna e disonore alla famiglia e per questo meritava di morire. Banaz aveva divorziato dal suo ex marito e si era fidanzata con un ragazzo che non professava la loro stessa religione. Per loro, lei, quel giorno, meritava di morire. Se l'era cercata e l'unica persona da incolpare era lei stessa. La sorella di Banaz, Bekal, e il fidanzato Ramat prendono la coraggiosa decisione di testimoniare contro la famiglia Mahmood in tribunale, mettendo in pericolo di fatto le proprie vite. Se le altre persone nella comunità corda avessero scoperto che stavano testimoniando contro un'altra famiglia facente parte della comunità, probabilmente sarebbero diventati dei bersagli. Fortunatamente entrambi vengono messi sotto protezione della polizia, proprio per evitare che qualcuno possa ucciderli. Vengono spostati continuamente da un luogo all'altro per garantire la loro sicurezza. Bekal vive ancora oggi nascosta, rilasciando ogni tanto alcune interviste, ma solo con il viso interamente coperto, e non per sua scelta, ma per evitare di essere riconosciuta e uccisa. A Ramat viene fornita una nuova identità. Sia Babakar Mahmood che Ari Mahmood vengono giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo. Anche uno dei cugini di Banaz Hama si dichiara colpevole e viene condannato all'ergastolo per aver partecipato fisicamente all'omicidio. Tuttavia la polizia non è ancora riuscita a localizzare gli altri due cugini coinvolti nell'omicidio di Banaz, quelli che erano scappati in Iraq per sfuggire alla giustizia. I mesi passano ed è davvero difficile per la polizia riuscire a trovare e arrestare questi uomini, perché nessuno era mai stato estradato dall'Iraq al Regno Unito prima d'ora. La polizia è però determinata ad assicurarsi che questi uomini vengano giudicati per le loro colpe e nel 2007 entrambi vengono arrestati dalla polizia irachiena. Omar Hussein viene ferito a una gamba da suo fratello durante una discussione, viene portato in ospedale e quando si riprende viene preso in custodia dalla polizia per essere interrogato. Ali viene invece arrestato dalla polizia irachiena per il suo coinvolgimento in un incidente stradale. A questo punto entrambi gli uomini sono in custodia separatamente per motivi diversi, quindi la squadra investigativa del Regno Unito va direttamente in Iraq per cercare di convincere il tribunale locale a estradarli, in modo che possano essere processati nel Regno Unito per l'omicidio di Banaz. Ci vogliono ben tre anni prima che Omar Hussein e Mohammed Ali vengano giudicati colpevoli dell'omicidio di Banaz. Negli ultimi quattro mesi di vita questa povera ragazza si era recata alla stazione di polizia in cinque diverse occasioni perché temeva per la sua vita. La polizia ha gestito il caso in modo estremamente negligente, infatti viene avviata dalle autorità un'indagine per cattiva condotta. In seguito alle indagini la Independent Police Compliance Commission raccomanda che vengano emessi avvertimenti scritti a diversi ufficiali di polizia coinvolti nel caso e che due ufficiali della polizia metropolitana compaiono davanti a una commissione disciplinare a seguito delle gravi mancanze riscontrate. La commissione disciplinare però non si riunirà mai perché il testimone chiave, Ramat, si rifiuta di prendervi parte, quindi gli agenti coinvolti ricevono la sanzione disciplinare più bassa. Nel maggio del 2016, dieci anni dopo l'omicidio di Banaz, Ramat si toglie la vita. Per lui non aveva più senso continuare a vivere in quel modo, non si è mai ripreso dopo la tragica morte della sua fidanzata. Questo caso mi è rimasto veramente impresso. I delitti d'onore mi lasciano davvero allibita. Se un divorzio porta più vergogna a una famiglia rispetto a un omicidio, allora c'è qualcosa di terribilmente sbagliato. Inoltre mi chiedo, esercitare violenza carnale sulla propria cugina prima di ucciderla non è motivo di vergogna? Pensate a quante donne vengono assassinate in Iraq solo perché desiderano essere trattate con rispetto e amore. Il fatto che questo comportamento sia ancora la norma in alcuni paesi mi dispiace ma a me disgusta. E l'unica ragione per cui questa storia ha avuto risonanza è che la famiglia si era trasferita a Londra. Mi si spezza il cuore per Banaz. È straziante quando la vittima cerca disperatamente aiuto e gli viene negato. Nessuno, e ripeto nessuno, dovrebbe vivere nella paura come è successo a lei. Sua sorella sta ancora vivendo nascosta dalla sua famiglia, costretta a cambiare spesso casa per evitare di essere trovata e uccisa. Se la polizia avesse dato ascolto alle parole di Banaz, forse oggi sarebbe ancora viva e trascorrerebbe la sua esistenza felicemente accanto al suo amato Ramat. Questo ci porta alla fine di questo video. Questo è un caso simile a quello di Saman Abbas che purtroppo abbiamo avuto qui in Italia. Ma rimango davvero sconvolta da questi casi perché non è possibile. Non è possibile davvero che sia più accettato un omicidio che un divorzio. È una cosa fuori da ogni logica per me. E so che è una questione culturale, ma stiamo parlando della vita di una persona. Della vita di una ragazza giovanissima poi. Banaz aveva 17 anni. Quando poi è stata effettivamente promessa in sposa a quell'uomo. Quindi era anche estremamente giovane. Fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate di questo caso. Fatemi sapere che emozioni vi ha suscitato questo caso orribile. Sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Quindi sentitevi liberi di scrivere quello che vi sentite qua sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.